Il Consiglio Comunale di Sanremo è convocato in adunanza urgente nella sala delle riunioni presso la sede del Comune a Palazzo Belvù domani giovedì 29 marzo. All'ordine del giorno interpellanze e interrogazioni e poi il parlamentino discuterà del controllo di gestione i tributi del servizio tributi e delle modifiche al regolamento comunale per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti, la cosiddetta Tari, per l'anno 2018. Poi la discussione proseguirà sul controllo di gestione i tributi e del tributo comunale sui rifiuti, seguirà quindi l'approvazione del piano finanziario e delle tariffe per l'anno 2018. Inoltre, per quanto concerne il settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile, la Sise discuterà sul servizio di edilizia privata e dell'istituzione di tariffe istruttorie SUE e SUAP dell'urbanistica. Infine, per il settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile e del servizio urbanistica, si proseguirà sul progetto di riqualificazione urbanistica ambientale con demolizione e ricostruzione di delocalizzazione fabbricato non residenziale di Corso Marconi, sempre a Sanremo. Grazie. 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 Grazie.